In Puglia si può venire per mille cose, ma non si può andare via senza la frisetta. In Puglia si può venire. Ciao a tutti, today we're at the lovely Masseria Tritticum and I have made Ofato with my rolling pin and my pastry, some delicious Puglia si treats. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.